La città di Arezzo è pronta a rendere omaggio al suo santo patrono, San Donato, mercoledì 7 agosto, con rituali religiosi ed eventi tradizionali che si susseguiranno. Come la tradizione, però, le celebrazioni partiranno sin dalla vigilia, martedì 6 agosto, con la cerimonia di offerta del cero in cattedrale dalle 21.15. Presenti le rappresentative dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, l'associazione Signarezzi, il gruppo musici della Giostra del Saracino, la magistratura, il sindaco e i gruppi storici della provincia. Durante la cerimonia sarà offerto a San Donato il cero votivo decorato, come di consueto dall'artista senese Rita Rosselliciani, decoratrice anche dei cedi che i quartieri offrono al Beato Gregorio nella cerimonia che a gennaio apre l'anno giostresco. Tante poi le iniziative collaterali organizzate in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour come l'apertura straordinaria del percorso espositivo I colori della Giostra e la visita guidata gratuita alla scoperta delle immagini di San Donato nel Palazzo Comunale. Infine il gran finale con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà a festa il cielo della città a partire dalle 23. Gli eventi religiosi proseguiranno poi anche nella giornata di mercoledì 7 agosto.